Caparbietà, spirito di squadra e voglia di portare a casa tre punti. Sono questi gli ingredienti che hanno permesso al Monopoli di vincere una gara assolutamente non facile contro un'attenta Paganese. Settimo risultato utile consecutivo per i Colombo Boys, che tengono ancora una volta la propria porta inviolata. Torna Capitan Piccini dal primo minuto, oltre ad Arena e Viteritti. Che il Monopoli sia in pala lo si capisce già al terzo minuto quando Starita calcia in porta. Attento Baiocco, e Guiebre poi a provarci al ventiduesimo, sfera a lato. Neanche 60 secondi dopo la Paganese si rende pericolosa con l'esperto Piova Cari, che però non trova l'impatto giusto con il pallone. Ancora Campani in avanti al minuto 39, il tiro di Zito si perde alto sopra la traversa. Chance più ghiotta del primo tempo che capita sui piedi di Grandolfo al trentasettesimo, ma Baiocco dice ancora di no. Nella ripresa gli ospiti provano a difendersi con più ordine ed infatti in ripartenza la squadra di Grassadonia rischia di colpire, in particolare al 72esimo, quando Loria è costretto agli straordinari sul tiro di guadagni. Il Monopoli però insiste, trova la svolta del match all'85esimo. Guiebre viene steso in aria e rigore. Dal dischetto mercadante è perfetto e fa impazzire di gioia il veneziani. Nel finale la Paganese resta in nove, espulsi i manarelli per proteste e Zito per un brutto falo di reazione su Novella. E festa bianco-verde al triplice fischio per un Monopoli che domenica prossima andrà a Palermo senza paura e con ben 30 punti dopo 16 giornate.